bella picciotti sono narciso benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qua raga nei minecraft survival game siamo al server di bedline su par 72 mappa che boh non so da quanto tempo non vi porto e che cacchio non ho preso nulla madonna ok andiamo al chest root indossiamo sti cosi tanto se qualcuno viene a targettarmi hanno preso tutto da quella cassa vabbè abbastanza normale come cosa io me ne vado qua perchè non ci vado da troppo tempo e ci ho voglia di andarci quindi ci facciamo questo chest root lol ma che schifo ci ho trovato le cose che praticamente avevo trovato nelle casse quando ho aperto quella al centro e no ok bravo ottimo allora buttiamo tutte ste cose chiamocci un po' di armor cambiamo questi t2 no t1 no dammelo questa ok e adesso andiamocene fuori andiamo a fightare non posso fare nulla però posso mettere del cibo migliore allora dov'è che sono tutti sicuramente saranno tipo verso quella direzione abbastanza perchè ci vanno praticamente tutti vedo che c'è la doppia cassa quelle belle cose quindi si sono abbastanza sicuro che ci sia andato qualcuno e infatti tu sei un esempio e però lì ci sta è un team no non è un team non è un team non è un team è un team i dubbi esistenziali proprio raga ciao vieni qua mi insegui mi puoi inseguire dai sono il tizio di prima oh bravo 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 bustiamoci qua sotto no 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 ok il tizio lì è tipo pronto a cleanare eh vabbè è ovvio ovvio no chi è che non clina negli SG ok ora perchè ti sei fissato con me no 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 sicuramente non mi clinapperai ho proprio scontato cioè non mi clini ottimo bravo adesso io clino ottimo bellissima così si fa giusto mi pare di sì ok andiamocene però prima che qualcuno venga a cleanare me posso fare una spada andiamocela a fare subito mangiamo anche per rigenerare ci facciamo anche un FNS no mi serve thanks roba nulla vedo se qualcuno ho già preso tutto eh scuola questi mi possono servire ok stick di apple roba decende 1 dia 2 dia 3 dia deathmatch siamo in 5 siamo in 4 ok sono pressoché morto ok no ho il bro no vabbè sono morto oh 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 gg gg lol madonna glows glatch madonna gg nice questa partita mi è piaciuta pensavo che il tizio non dico full vita ma pensavo che avesse più cuori di me sicuramente comunque gg per me in ogni caso ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto nel caso dovesse essere così vi invito a lasciare un mi piace un commento e che dire signori da Narciso è tutto ciao a tutti ciao a tutti